Musica 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 Per conoscerci ovviamente Per conoscermi ragazzi Ho dovuto fare tantissimi video E sono contento comunque sia Del risultato Perché ho un po' di gente dietro Mi fa piacere questo Un po' che per me è moltissima Non avrei mai pensato di raggiungere Questo traguardo in così poco tempo Quindi ragazzi A cura di te è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre ve lo ripeto Domande giù nei commenti In questo video Non negli altri video E noi ci vediamo alla prossima Quindi Bella raga